ragazzi no non sono gazebi sono ombrelli perché qui piove di brutto ma abbiamo da svelarvi una ragazza caldissima caldissima andiamo a scoprirla andiamo a spogliarla insieme ciao allora enrico direttamente dalle highland scozzesi siamo qui siamo collegati lo vedete qui dal ponte no ragazzi siamo a pioltello della tana delle tigri siamo qui però al tempo dalla nostra ma vi ho detto che vi volevo accendere con questa meraviglia con questa ragazza meravigliosa abbiamo a sto giro ce ne sono tante di rubicon jk e quindi con questa colorazione particolare questi adesivi particolari il ponte rinforzato davanti bravo parliamo di cose tecniche qui abbiamo un dana 44 ma con le c rinforzate ci sono anche tante leggende chi dice addirittura i tubi sono più grandi dicono però le c è confermato poi anche Harry Potter mi ha detto qualcosa però insomma poi anche il bel cofano anniversario insomma la base c'è e noi abbiamo usato una ricetta che dire premium plus un plus più plus quasi che fa un occhiolino a levo si ragazzi a sto giro abbiamo fatto qualcosa di un un po' bello aggressivo e quindi da solito la ricetta due pollici e mezzo di altezza con il suo ammortizzatore fox 2.0 performance e poi vedi subito lì i puntoni a caster fisso per allungare un po' il passo jks jlink ovviamente pare panard regolabili davanti e dietro ammortizzatore di sterzo insomma di roba ce n'è ce n'è tanta da parlare le vedi tutte qua sotto ma cosa facciamo andiamo a parlare un po' della ruota dopo andiamo a vedere anche il resto è la ruota ideale per questa giornata quindi siamo 35 12 50 17 vf goodrich k m3 ragazzi questa è quella che è la gomma che vince questa qua però poi abbiamo dato un tocco anche di luxury ma un tocco che secondo me ci sta proprio bene questo bellissimo fuel beast double tint che ok la giornata non è proprio al top però ha una ti da un qualcosa insomma col colore della macchina che per me tanta tanta roba quel tocco di funezza che non guasta si sembra quasi un cerchio custom made bravo bravo e a proposito di altre chicche altre robe serie guarda un po' che pedana old school siamo andati a infilare qua una smithy built xrc le pedane serie le pedane per far fuori strada le pedane non che c'è un attacco qui e un attacco là che poi quando ci sali su ci flettano no questa è una pedana che va all'interno del telaio è completamente imbollonata e corre di su tutta la lunghezza della della pedana e questa veramente ti appoggi agli alberi si spostano gli alberi tanta tanta roba ma a salire poi anche lì illuminiamo i nostri percorsi e li illuminiamo con dei faretti rigid ma dimmi tu il modello perché non me lo ricordo ds pro ds pro sono quelli con la più uno tra i più alti mi dicevi no si pensi superiore ci sono solo i dss pro che hanno anche le ottiche laterali però questa solo l'ottica frontale ma insomma illuminano veramente veramente tanto e bene troviamo qui un bel paraurti a uso gravoso omologato con all'interno un verro di tutto rispetto warn vr 12s con il suo bellissimo e utilissimo cavo tessile ovviamente quiet poi è la chicca delatata e beh certo e poi al posteriore invece andiamo con di nuovo un bel paraurti a uso gravoso anch'esso omologato ovviamente come dicevo prima barapanard biellette sempre puntoni jks ammortizzatori fox ovviamente troviamo le stesse cose che ti ho detto prima e poi insomma adesso purtroppo ci hanno fatto uno scherzesto i ragazzi non mi ricordo se dell'ups o della fedex che si sono persi un cerchio non lo so dove arriverà la gomma c'è già ma arriverà il cerchio però noi nel frattempo ci siamo tutelati con un bel cancello un bel rinforzo del portellone dai rag e rigi perché insomma quando si monta la ruota grossa va messo se no poi flette tutto flette tutto sembra di avere un tamburo in macchina insomma è una porcheria quindi si monta questo e ragazzi direttamente come dicevamo prima dalle highlands non ci resta che farci un whisky secondo me che ci riscalda un po la giornata perché alla salute di questo meraviglioso re con e quindi con l'ombrello ragazzi ci vediamo alla prossima bel bacia che sarà molto interessante anche lei una base sarà mi dicono sarà confermo e sottoscrivo grazie a tutti